Vi diamo il benvenuto, ho già un po' introdotto tutti quelli che sono qua e che hanno permesso insieme al Presidente del circondario, il Sindaco di Imola, Marco Panieri, Presidente del Distrito Sanitario, alla Direzione Generale dell'Asla, a chi poi dell'Asla è qua, ma Stefano li ha già incontrati e ringraziati, comunque insieme a loro tutti i volontari, tutti i sindaci e forze politiche che comunque vedono in questo centro, che è uno dei tre centri del circondario imolese, gli altri due saranno sulla città di Imola, ma serviranno ovviamente perché facenti tutti i comuni e i cittadini del circondario vedono che la speranza che saggiamente il Governo e la Regione hanno messo in campo con grande forza e grande decisione e risolutezza fin dall'inizio. Noi prima di tutto vogliamo dire grazie a Stefano, al Presidente Bonaccini per la risolutezza con cui ha creduto in questa campagna vaccinale, nella sua azione energica e lo ringraziamo del servizio che ha svolto nella conferenza Stato-Regioni che ha dato un impronto importante alla risoluzione della pandemia.